L'Unitalsi si fa prossima alla gente. La nuova sede di Corso a Sarotti si affaccia sulla strada ed è aperta all'incontro con tutti. Un'esperienza unica in Liguria. L'ufficio sarà un punto informativo ma anche di ascolto. Sarà aperto il martedì e il sabato dalle 9.30 alle 11.30 con aperture più frequenti in vista dei principali pellegrinaggi. Che servizio darà a questo ufficio? Molto semplice, un servizio di segreteria e soprattutto un servizio di aiuto. Aiuto a chi si vuole avvicinare alla nostra associazione, a chi vuole diventare volontario, alle persone anziane che spesso hanno paura a partire in pellegrinaggio con noi avranno un'assistenza di 24 ore al giorno. La sede Chiavarese sarà gestita dai volontari. Per l'Unitalsi è un investimento importante che punta però a valorizzare il gruppo, a farlo conoscere e a promuovere le sue attività. È nata nel 1903 come organizzazione di pellegrinaggi ma poi noi siamo un servizio di assistenza 365 giorni all'anno con i nostri malati, i nostri giovani, le persone che fanno parte delle nostre sottosezioni. Ne abbiamo sei in tutta la Liguria. Quanto sono importanti i volontari Unitalsi? Sono tanti anni che vado a Lourdes e mi aiutano tanto tutti i miei compagni di viaggio. Come li aiutano i volontari? Mi aiutano sempre e mi aiutano a vivere, a tirare avanti. Il Vescovo ha impartito la benedizione, poi ha presieduto la messa in cattedrale. Nell'Omelia ha invitato a ringraziare per i 90 anni della sottosezione, anni ricchi dell'intervento di Dio e della collaborazione degli uomini, ha detto, e ha esortato a guardare con fiducia al futuro. Guardare indietro per allegrarci e ringraziare, ma soprattutto guardare avanti per continuare in quest'opera così bella, così ricca, a servizio soprattutto dei malati. Dobbiamo quindi continuare con fiducia e speranza, non lasciando cadere le braccia come dice la Sacra Scrittura, ma riprendendo slancio e desiderio di ravvivare il carisma che ci è stato dato.